Vicky Chiara avanti dammi dammi uno degli oggetti di oggi ecco qui questa sera appendiamo una decorazione insolita nel nostro albero è un cuore una decorazione non tradizionale di solito palline luci l'albero il cuore di solito non c'è ho voluto addobbare il nostro albero con il cuore con tanti cuori perché ci aiutano a riflettere sul valore delle cose il valore delle cose non viene tanto dal prezzo che hanno o da quanta fatica ci costano ma viene dall'origine delle cose Gesù ha detto una volta ai suoi discepoli ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore ecco le cose che compongono le nostre giornate le parole che usiamo i gesti che facciamo provengono dal cuore e così vale anche per tutti i gesti le tradizioni i momenti di festa che servono a farci capire a vivere bene il Natale se non vengono dal cuore se non affondano le loro radici nel terreno della nostra anima nella stanza del nostro cuore non hanno valore noi invece vorremmo proprio appendendo anche questo cuoricino all'albero che sia chiaro che tutto viene dal nostro cuore che è il luogo più importante della nostra vita il cuore è quella stanza dove dio solo riesce a entrare e dove ci insegna la differenza tra il bene e il male e quando lo lasciamo entrare nella nostra vita proprio lì proprio lì lui semina il bene e pian piano lo fa germogliare e lo fa diventare un albero con tanti tanti piccoli segni che riescono a cambiare la vita di chi ci incontra ecco allora questa sera appendiamo all'albero della nostra casa all'albero del nostro avvento all'albero del nostro grande calendario di avvento dei cuori per ricordarci che tutto quello che facciamo deve venire da quella stanza dell'anima dove ci sediamo volentieri a parlare con dio facciamo gli auguri questa sera a paolo nove anni a davide undici a sofia quattordici a noemi quattordici a tutti loro il prezioso regalo della nostra preghiera nel nome del padre del figlio e dello spirito santo padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen angelo di dio che sei il mio custode illumina custodisci regge e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste amen nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen ragazzi buonanotte a domani grazie a chiara chirona 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 grazie a chiara chirona